Sempre più persone, anche a Turino e in Piemonte, vanno all'estero, ad esempio Turchia o Albania, per sottoporsi a interventi di chirurgia plastica, una scelta che però può comportare dei problemi, come ci spiega il dottor Daniele Bollero. In questo momento storico si è visto un aumento degli interventi chirurgici di chirurgia plastica all'estero. Questo non è, da chi fa il professionista in Italia, visto come una concorrenza illecita, perché sicuramente è una questione di costi più bassi di questi paesi, ma è diventato sempre più un problema di tipo sanitario. Perché? Perché non è soltanto l'intervento chirurgico il punto nodale di un percorso di tipo estetico, ma è anche tutto il seguito, quindi le medicazioni e cose di questo genere. Ci possono essere delle complicanze e abbiamo visto nei nostri studi, nei nostri ospedali, un aumento di pazienti con problematiche che non sapevano gestire. Quindi diventa importante, secondo me, sottolineare che ovviamente le scelte sono assolutamente personali, quindi uno può sicuramente andare a fare un intervento all'estero, ma deve sapere i rischi che corroni. Rischi che corroni che sono soprattutto la gestione di eventuali complicanze post-operatorie, che portano, oltre al fatto di uno smarrimento iniziale, dove la paziente non sa, o il paziente non sa come muoversi, anche a costi superiori, perché comunque magari poi si devono affrontare i terchirurgici importanti, secondari. Quindi diventa importante in una situazione di questo genere essere molto attenti e pensare in primis alla vostra sicurezza. Cercate sicuramente un professionista in Italia, perché tante volte uno manco chiede i costi italiani e si mette sicuramente pensando che all'estero si possa trovare in una situazione assolutamente migliore. Mentre il mio consiglio e il consiglio di tutti gli altri professionisti è iniziate a valutare tutto il vostro intervento in una situazione italiana, soprattutto senza andare anche lontano in Italia, cioè cercate una situazione vicino a voi e poi iniziate un percorso. Sicuramente è una soluzione che si può trovare senza andare ad affrontare rischi, soprattutto nel post-operatorio.